ed eccomi qua nella mia scrivania sono in redazione al gambero rosso e come al solito la mia giornata inizia con un assaggio sto per assaggiare uno dei vini più prestigiosi più conosciuti italiani nel mondo il brunello di montalcino questo caso il mio assaggio si dirige verso l'azienda bonacchi un brunello di montalcino annata 2019 l'annata 2019 è stata sicuramente un'annata di calore tutto sommato la 2019 a montalcino ha conservato un suo equilibrio e quindi ha dato modo di produrre dei vini di grande eleganza di grande finezza che è quello che poi noi ricerchiamo sono andato anche a indagare nel sito proprio della famiglia pensate bonacchi produce vino da quattro generazioni bonacchi è il cognome di famiglia quattro tenute in toscana la prima dove tutto è nato a quarata provincia di pistoia stiamo nei chianti molto albano però anche bolgheri la famosa zona di costa bolgheri casalino dove si producono dei chianti classico a castelluovo berardenga e molino della suga e dove ci troviamo appunto a montalcino tra l'altro proprio qui a molino della suga e lo trovate qui nel sito andando su hospitality l'azienda possiede un bellissimo casale finalmente ristrutturato e un agriturismo quindi per gli appassionati del genere che se volete trascorrere qualche giorno con del buon vino e del buon cibo l'agriturismo a montalcino della famiglia bonacchi fa sicuramente per voi torniamo al brunello l'uva è assolutamente una unica la più importante la più prestigiosa la più conosciuta il sangiovese alcune volte troverete addirittura la dicitura sangiovese grosso quando parliamo di montalcino perché all'interno della famiglia del sangiovese c'è proprio questa qualità chiamata sangiovese grosso che contraddistingue le produzioni di di montalcino cosa mi aspetto da questo vino beh sicuramente una buona struttura un buon carattere una buona persistenza ma come ho detto prima anche finezza eleganza bevibilità ecco i vini grandi devono essere anche bevibili perché sennò molto spesso se facciamo fatica a bere un bicchiere anche di fronte a un vino di importante complessità e alla fine non ci piace così tanto ancor meglio se ovviamente un vino così lo andiamo ad abbinare con la pietanza giusta ed è per questo che ho chiamato un caro amico chef bravissimo di grande esperienza davide mazza gli ho detto guarda davide ho un grande rosso toscano penso un piatto e poi vediamo come ci sta in abbinamento giuseppe prosciutto di maiale quindi olio d'oliva integame spalla di prosciutto cotto sottovuoto e andiamo a caramellizzare qui abbiamo un'emulsione di aceto di mele e miele poi rucola giochiamo sulle mari ce ne andiamo sul concetto amorostico e pompelmo pompelmo rosa spatolina e lo giriamo ok ecco qua e vado ad insaporire l'olio di cottura con del finocchietto nel frattempo succede che rucola la voglio trattare come se fosse un'insalata ma all'interno metto erbe aromatiche miste quindi maggiorana menta timo origano fresco molto interessante questo gesto qui quindi un po di olio sulle mani e la condiamo appena in questo modo quindi andiamo a a lucidare e la condiamo con con le mani così prendiamo la spalla caramellizzazione c'è e la appoggiamo sul piatto emulsione di miele e aceto leggerissima mettiamo qua aggiungiamo la rucola condita con l'erba aromatica andiamo un po in altezza andiamo un po ad alzare il piatto e piccola parte di pompelmo rosa fresco e facciamo in modo che ogni boccone arrivi olio di oliva chiudiamo con il famosissimo olio verde che dalla parte vegetale e cromatica ecco qua davide ecco di spero che sotto la rucola si nasconda qualcosa di un pochettino più sì che dai io ti ho portato il vino è il famoso Brunello di Montalcino ecco qua Brunello di Montalcino in un'annata 2019 azienda Bonacchi quattro tenute in Toscana tra cui anche a Montalcino e fra poco ci assaggiamo questo vino sto per stappare tu raccontami un po su cosa ti sei incanato anche questa la sai che fai gli abbinimenti miei infatti sempre un po così andiamo a vedere che succede prosciutto di maiale quindi ha fatto ha fatto bassa temperatura per molto tempo poi l'ho tostato l'ho caramelizzato in padella e ho aggiunto durante la caramelizzazione dei semi di finocchio questa è di base poi ho detto vabbè diamoci un po di apertura fresca e amarostica allo stesso tempo e ho pensato chiaramente rucola e poi ed è del pompelmo rosa che di base è acido però chiude amaro bene sai che l'agrume in generale soprattutto quando ci sono queste parti di aspirità molto importanti rischia sempre di andare un po a scontrarsi col vino però qui è una parte che è inglobata in tante altre sensazioni è giusto una sensazione ecco perfetto allora ci assaggiamo prima il vino da solo e così ti dico ti traduco nel bicchiere quello che le parole che ti ho usato per la 2019 allora 100% sangiovese una bellissima acidità sapidità finale un corpo che a dispetto di quello che noi vediamo quando leggiamo l'alcolicità 14 gradi io dico sempre non lasciamoci ingannare perché molte volte uno vede la gradazione e dice oddio sarà un vino pesante difficile da bere no perché l'obiettivo è come nei piatti è che tutto sia in equilibrio e poi la cosa bella di questo vino è la trama tannica perché anche lì il sangiovese ha un bel po di tannino però vedi come il tannino è maturo non va a dare un sorso come dire contratto astringente troppo aspro che va nelle sensazioni amare tutt'altro un vino veramente uno di quei grandi rossi che richiamano tanti tanti piatti allora qui non mi basta la forchetta perché immagino che un taglietto sia da fare eccolo qua coltellino perfetto vado? oh che morbido ma quasi qui non ci vuole il coltello eh? sì sì te l'ho dato per convenzione va bene guarda ora che boccone fai del boccone dovrebbe venire il locale che siamo il boccone allora guarda la consistenza è perfetta perché tutta questa morbidezza che si traduce proprio in bocca anche in una scioglievolezza come abbiamo detto poi è contrastata benissimo dalla forza del brunello e quindi soprattutto da quelle che sono le parti dure del vino sapidità e acidità poi però arriva tutto il resto c'è tutta la parte aromatica e come dico sempre la cosa bella è che il piatto è un piatto sicuramente succulento, saporito, veramente di grande persistenza il vino è lo stesso e si accompagna in questo finale molto molto lungo sai che alla fine il pompelmo unito in questo come dire complessità di tutto il piatto il piatto sta benissimo ma non si scontra minimamente col vino avevo un po' la paura che la città del vino potesse un po' scontrarsi e quindi dare delle asperità troppo importanti invece no manca solo una cosa? il brindisi bravo, il brindisi finale grazie Gesù saluta a te